Consigliere Grimaldi, lei è un po' che dichiara che a suo parere da Milano non sarebbe leggibile, ci può spiegare il motivo? La vicenda è abbastanza semplice, noi a giugno abbiamo chiesto al signor da Milano di dimettersi dalla carica di presidente di Fin Commission perché era stata ufficializzata la sua candidatura e ci sembrava davvero inopportuno che lui continuasse a svolgere le funzioni di rappresentanza, lui diceva scherzando che aveva fatto la palestra grazie a quella nomina e noi gli dicevamo che la palestra gratis era finita e che ormai aveva un compito politico, quello che però è successo è che lui ha atteso la fine del suo incarico non capendo e non conoscendo probabilmente una regola che è scritta non solo nelle leggi che in qualche modo ricordano le incompatibilità, ma anche in tante sentenze, cioè lui non si è mai dimesso da quella carica e non ha mai neanche chiesto alla regione Piemonte di mettere nero su bianco che il suo incarico era finito, ma non solo, ha continuato a lavorare anche nelle giorni successivi di proroga, ha continuato a scrivere protocolli e anche a presentarsi in giro come presidente Fin Commission. Se oggi guardate sui siti è ancora lui il presidente, quindi la cosa più grave non è tanto quello che è successo, è la sciatteria, è l'arroganza e anche che se mai fosse eletto rischierebbe di rimandare al voto tutta la città di Treda.